La panchina del Bari prende forma dopo l'esonero di Vincenzo Vivarini avvenuto nei giorni scorsi. La formazione pugliese di De Laurenti se sembra aver scelto Gaetano Auteri come nuova guida tecnica. L'indiscrezione lanciata da Gianluca di Marzio.com vede il Bari offrire un contratto biennale al tecnico siciliano. Insomma Auteri dopo la parentesi con il Catanzaro e il corteggiamento estivo da parte dell'Avellino siederà sulla panchina del Bari. L'ufficialità dovrebbe avvenire nelle prossime ore tramite un comunicato stampa. Anche il Teramo sta per sistemare la panchina con l'ingaggio di Massimo Paci ex calciatore mentre la Viterbese sogna il doppio colpo dal Frosinone ovvero l'ex Avellino Tribuzzi e il centrocampista Enrico. A proposito di ex Avellino e di Girone C il difensore Antonio Giosa è passato al Monopoli ufficialmente dopo la sua esperienza al Potenza dove ha vestito anche la fascia di Capitano. Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito il CONI ha reso noto che l'udienza relativa al ricorso del Trapani contro la FIGC per il format della Serie B si svolgerà il prossimo 26 di agosto. Il Palermo invece nei giorni scorsi ha ufficializzato in attacco il colpo Saraniti dal Vicenza.